La musa mi vuole accompagnare, se per quel dono che io ho ricevuto in questo momento non mi viene a abbandonare. La musa mi vuole accompagnare, se per quel dono che io ho ricevuto in questo momento non mi viene a abbandonare, se per quel dono che io ho ricevuto in questo momento non mi viene a abbandonare. La musa mi vuole accompagnare, se per quel dono che io ho ricevuto in questo momento non mi viene a abbandonare. La musa mi vuole accompagnare, se per quel dono che io ho ricevuto in questo momento non mi viene a abbandonare.